Il sindaco del Comune di Triora, Massimo Di Fazio, si conferma in prima linea nella ricerca di opportunità volte a garantire lo sviluppo turistico non solo del Borgo ma di tutta l'Alta Valle Argentina e lo fa attraverso l'attivazione di partenariati pubblico-privati. All'interno di questa strategia si collocano anche l'attività che negli ultimi mesi il Comune ha avviato, affrontando politiche rivolte al risparmio energetico e all'utilizzo di nuove tecnologie. I temi sono stati anche affrontati in un recente convegno a Monaco organizzato dall'Associazione Bandiera Arancioni. Il Comune di Triora ha inoltre partecipato a due bandi promossi dal Gallo e il Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori, candidandosi quale capofila. In entrambi i progetti sono previste azioni di valorizzazione della rete esclusionistica locale. Lo sviluppo e la promozione del territorio passerà attraverso la creazione di itinerari didattici e ricreazionali che collegheranno il Borgo delle Streghe all'Anello di Loreto con la foresta demaniale di Gerbonte, famosa per le sue peculiarità ambientali e gli alberi secolari. Partner d'eccezione di questi progetti è il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri.